Per iscriverti nel portale dello studente vai al link segreteriaonline.unisi.it e clicca nel menu a sinistra su registrazione o se sei in possesso dello speed clicca la voce registrazione con speed. Compila quindi tutti i campi. Compila quindi tutti i campi. E accettare il consenso al trattamento dei dati personali. Al termine della registrazione controlla i dati inseriti. Potrai confermarli o modificarli. In questo modo avrai completato il processo di registrazione e il sistema ti assegnerà un nome utente e una password. Sulla mail che hai inserito riceverai le tue credenziali. Per accedere torna su segreteriaonline.unisi.it e clicca sul login. Ora hai accesso alla tua pagina personale nel portale dello studente. Benvenuto in Unisi. Beung... Beung... Grazie a tutti.